Posti Covid esauriti si valutano i Covid hotel. Al Vittorio Emanuele i posti Covid sono quasi vicini alla saturazione. Tutti e sette ricoverati in rianimazione della provincia si trovano nell'ospedale Gelese. Una situazione di pressione che difficilmente potrà continuare senza interventi. L'obiettivo oggi è di arrivare all'avvio di due o tre Covid hotel. Intanto questa mattina il direttore sanitario Alfonso Cirone Cipolla ha incontrato il deputato regionale Michele Mancuso e l'amministrazione per fare il punto di una serie di interventi che coinvolgeranno la struttura sanitaria di Caposoprano già a partire dalla prossima settimana. Due positivi su 1.280 tamponi. Niscemi riapre le scuole. Con l'esito dello screening alla popolazione scolastica confortante, il sindaco di Niscemi Massimiliano Conti ha deciso di riaprire in presenza sin da oggi le scuole di infanzia, le elementari e la prima media. Solo due positivi su 1.280 tamponi fatti hanno indotto il primo cittadino a riaprire i cancelli delle scuole di Niscemi. Finanziamenti. Turano in visita in città arriva in una fase ancora di forte incertezza sul piano dei finanziamenti, cospicui che sulla carta sono destinati alla città. È fissata in settimana la visita dell'assessore regionale Mimmo Turano che probabilmente ne approfitterà per tirare un bilancio sugli investimenti programmati nel territorio. Negli scorsi mesi c'è stata anche la forte tensione tra Gela e Palermo a causa principalmente dei definanziamenti decisi dalla regione. Nuovo cantiere in via Bresmes, centro storico bloccato con l'avvio dei lavori per la rete idrica sulla via Giacomo Navarra-Bresmes e con la via Navarra ancora transennata, due importanti arterie del centro cittadino sono rimaste chiuse con tutti i disagi del caso. Protestano i commercianti e la zona ma l'assessore ai lavori pubblici Liardi rassicura ci scusiamo per le difficoltà, dice, ma continuiamo, contiamo di liberare le strade in tempi brevi. Centristi pronti ad annunciare un nuovo movimento, c'è il gruppo locale dell'Udc dietro a un nuovo movimento politico che dovrebbe essere annunciato in settimana. Non ci sarà nessun divorzio dall'Udc ma si tratta del tentativo di ampliare la platea locale dei moderati mettendo insieme esponenti di lungo corso e mondo dell'associazionismo. Una prima mossa anche nell'ottica delle prossime regionali. Ben trovati con questa nuova edizione del nostro telegiornale. In anteprima, in primo piano, ancora l'emergenza Covid. Al Vittorio Emanuele, infatti, i posti Covid sono quasi vicini alla saturazione. Tutti e sette i ricoverati in rianimazione della provincia si trovano nell'ospedale Gelese. Una situazione di pressione che difficilmente potrà continuare senza interventi. L'obiettivo oggi è di arrivare all'avvio di due o tre Covid hotel. Intanto questa mattina il direttore sanitario Alfonso Cironi Cipolla ha incontrato il deputato regionale Michele Mancus e l'amministrazione per fare il punto della situazione. Sentiamo. Dopo l'incontro della scorsa settimana sull'implementazione dei servizi ospedalieri qualcosa inizia a muoversi anche al Vittorio Emanuele. Questa mattina il direttore sanitario Alfonso Cironi Cipolla assieme ai primari dell'ospedale ha incontrato il deputato regionale Michele Mancuso, il sindaco Lucio Greco e l'assessore alla Sanitana di Agnoffo. Il confronto è stata l'occasione per fare il punto su una serie di interventi che coinvolgeranno la struttura sanitaria di Caposoprano già a partire dalla prossima settimana. Si dovrebbe iniziare dagli interventi di ampliamento del pronto soccorso generale che in questi mesi di emergenza ha risentito di evidenti carenze strutturali soprattutto in termini di accoglienza dei pazienti Covid e non Covid. Con l'avvio dei lavori di ampliamento dovrebbe risolversi il problema di afflusso. Nel frattempo sono già stati attivati i punti di decontaminazione per ambulanze ed operatori in arrivo. Altro punto fondamentale è l'avvio dei lavori del pronto soccorso infettivologico atteso da mesi e che adesso potrebbe partire in poche settimane. Da ASP fanno sapere infatti di aver già dato mandato alla ditta incaricata. Ultimo step quello della nuova terapia intensiva finanziata da Eni. Anche questa attesa ormai da mesi è con un progetto esecutivo in attesa di via libera dal comune che ora potrebbe finalmente sbloccarsi. Dobbiamo prendere atto che ci sono delle iniziative già intraprese e qualcosa di interessante che possa appunto prospettarsi per il prossimo futuro, imminente futuro. Non c'è dubbio che va fatto molto di più, tanto di più, soprattutto quello di sopperire somme e disponibilità finanziarie affinché si possano ingentivare queste iniziative e dare un riscontro veramente chiarissimo alla cittadinanza e fare dell'ospedale di Gela un esempio di sanità. Al Vittorio Emanuele intanto i posti Covid sono quasi vicini alla saturazione. Tutti e sette ricoverati in rianimazione della provincia si trovano nell'ospedale gelese. Una situazione di pressione che difficilmente potrà continuare senza interventi ulteriori. L'obiettivo oggi è di arrivare all'avvio di due o tre Covid hotel. Già domani l'Asp dovrebbe iniziare i sopralluoghi delle strutture individuate, due private e una pubblica. L'IPAB comunale come conferma il primo cittadino. Stiamo lavorando anche per concordare con Asp sulla base di un avviso pubblico che ha fatto in questi giorni per individuare una struttura pubblica o privata che sia immediatamente perché diventi hotel Covid. Per liberare posti in ospedale, dare aiuto a quelli che hanno bisogno di essere ricoverati in ospedale e spostare quei pazienti in fase di guarigione in altre strutture e garantire assistenza a 360 gradi ai più gravi e ai meno gravi. Ma l'obiettivo è anche quello di ampliare i posti letto anche al di là dell'emergenza come conferma l'assessore alla sanità Nadia Gnoffo. Ci siamo assunti degli impegni e ci siamo confrontati con i primari, con le altre istituzioni proprio per assumere impegni a breve e a lungo termine. Come per dire anche l'attivazione di altri 84 posti letto presso il nostro presidio a fronte di 150 che sono attivi. Quindi aggiungere ulteriori 84 posti letto così come prevista dalla rete ospedaliera nazionale. Nelle ultime 24 ore riscontro di 62 pazienti positivi al SARS-CoV-2 tutti in isolamento domiciliare. 37 pazienti di Gela, 13 di Niscemi, 10 di Caltanissetta, 2 di San Cataldo. Ricoverati in degenza ordinaria, 2 pazienti di Gela, 1 di Niscemi, 1 di Mazzarino, 1 di Riesi e 1 di Caltanissetta. Trasferito dall'adegenza ordinaria al reparto di anestesia e rianimazione un paziente di Gela. Trasferito da quest'ultimo all'adegenza ordinaria un paziente di Caltanissetta. Deceduto un paziente di Caltanissetta positivo al SARS. Guariti dal Covid, 108 pazienti di Gela, 16 di San Cataldo, 7 di Niscemi, 4 di Caltanissetta, 4 di Butera e 1 di Santa Caterina. Ancora Covid, con l'esito dello screening della popolazione scolastica confortante, il sindaco di Niscemi, Massimiliano Conti, ha deciso di riaprire in presenza sin da oggi le scuole dell'infanzia, le elementari e la prima media. Solo due positivi su 1.280 tamponi fatti hanno indotto il primo cittadino a riaprire i cancelli delle scuole. Sentiamo. Niscemi ha riaperto le scuole con l'esito dello screening alla popolazione scolastica confortante e il sindaco di Niscemi, Massimiliano Conti, ha deciso di riaprire in presenza sin da oggi le scuole di infanzia, le elementari e la prima media. Solo due positivi su 1.280 tamponi fatti hanno indotto il primo cittadino a riaprire i cancelli dopo una settimana di stop. Si è creata qualche polemica sui social perché molti genitori non hanno fatto fare i tamponi ai propri figli. Ho chiesto all'Asp, quindi domani chiederò ai dirigenti di veicolare questo messaggio di fare un'ulteriore seduta per coloro i quali non hanno fatto fare i tamponi e volessero fare i tamponi ai propri figli prima del rientro di poter fare una seduta anche concordandolo con i dirigenti, con un orario concordato, con i genitori. Credo che sia opportuno perché molti hanno espresso la preoccupazione per coloro i quali non siano sottoposti al tampone che è un atto di prevenzione non obbligatorio. È una scelta, io non posso che ringraziare tutti quei genitori, la buona parte che hanno sottoposto i bambini ed è, capisco, uno strazio ma è per la salute di tutta la scuola, di tutte le insegnanti e di tutte le famiglie quindi di poter fare eventualmente un'ulteriore seduta. Conti chiarisce il motivo per cui ci sono le condizioni per riaprire gli istituti scolastici. Io ritengo che se i protocolli che noi siamo chiamati a rispettare, se le disposizioni che noi siamo chiamati a rispettare dicono che la scuola deve ripartire in questo modo, non possiamo essere l'unico comune in Sicilia a non farlo quando i dati che abbiamo ricevuto non sono assolutamente confortanti. Capisco che tutti non la penseranno così, capisco le preoccupazioni di tante mamme, capisco che probabilmente qualcuno si aspettava qualcosa di diverso e ci rimane male da questa decisione che non è assolutamente presa come tutte quelle che prendiamo a cuor leggero come sapete, anzi credo che la maggiore attenzione, la maggiore coscienza che abbiamo applicato in ogni cosa sia dimostrazione che per una settimana abbiamo fatto fare i tamponi che abbiamo preteso la riapertura delle scuole soltanto dopo lo screening e non a scuola avviata. L'attenzione si sposta però sui controlli affinché tanti giovani ma anche adulti prestino maggiore responsabilità sui comportamenti da adottare in questo periodo. Credo che se si sia deciso di portare avanti la scuola in presenza ci sia una motivazione perché gli errori, parlo di errori quando non stiamo attenti ai nostri giovani e chiederò domani mattina alle forze dell'ordine di rafforzare i controlli perché dobbiamo uscire brevemente da questa zona rossa nel brevissimo periodo che è questa settimana mi auguro che tutta la Sicilia ritornerà ad essere arancione e quindi domani le scuole riapriranno, riapriranno in sicurezza per qualsiasi altra necessità è chiaro che noi teniamo monitorato sempre la situazione qualcuno dice che ce ne freghiamo, io ritengo diversamente spero che i miei concittadini abbiano capito quanto ci teniamo e quanto siamo impegnati in questa vicenda che ci sta cambiando la vita. La situazione attualmente viene monitorata dagli agenti di polizia e dei carabinieri che stanno ancora regolando il traffico con una coda di automobili che si è inevitabilmente formata questa mattina sono state riscontrate possibili fughe di gas in una delle aree di servizio lungo la Gela Catania nei pressi dello Svincolo per la strada dei Due Castelli l'intervento è stato sollecitato per evitare conseguenze peggiori e il rischio di esplosioni gli accertamenti sono in corso. Finanziamenti Turano in città arriva in una fase ancora di forte incertezza sul piano dei finanziamenti cospicui che sulla carta sono destinati alla città è fissata in settimana la visita dell'assessore regionale Mimmo Turano che probabilmente ne approfitterà per tirare un bilancio degli investimenti programmati nel territorio negli scorsi mesi c'è stata anche forte tensione tra Gela e Palermo a causa principalmente dei finanziamenti decisi dalla regione. Sentiamo. Da diverso tempo si tentava di organizzare una visita che salvo variazioni di programma si terrà in settimana. L'assessore regionale alle attività produttive Mimmo Turano sarà in città una presenza istituzionale in una fase sempre delicata per il futuro dei tanti dossier che riguardano la città almeno sul piano degli investimenti. Anche l'area di crisi non ha prodotto grandi risultati al pari di un accordo di programma che attende di essere rifinanziato. Sono ancora tanti capitoli aperti dalla zona economica speciale alla possibilità del contratto istituzionale di sviluppo senza dimenticare i finanziamenti del Patto per il Sud e di Agenda Urbana. Turano ha spesso avuto contatti e incontri anche con l'amministrazione comunale del sindaco Lucio Greco. La crisi dei definanziamenti sembra ormai messa alle spalle. La visita fissata per giovedì potrebbe servire al fare il punto della situazione sull'asse istituzionale Gela Palermo. L'esponente del governo musumeci ha un filo diretto con il gruppo locale dell'Udc. I centristi hanno fatto valere l'importanza dei loro riferimenti regionali nel dialogo politico che li ha poi portati in giunta. Pare che l'assessore abbia in programma anche alcune visite ad aziende locali e sarà in città mentre i suoi riferimenti politici locali appunto si preparano ad ufficializzare la nascita del nuovo movimento centrista ma senza rinunciare alla permanenza nell'Udc. Punto di convergenza con lo stesso Turano. Le indagini sono in corso dopo l'arresto del fine settimana. I poliziotti e il commissariato hanno sequestrato 157 grammi di cocaina tutti in possesso del 18enne Giovanni Bonelli. Il giovane difesso dall'avvocato Rosario Pludenti si è presentato questa mattina davanti al GIP del tribunale che ha convalidato l'arresto. Gli sono stati concessi i domiciliari. La difesa avanzato richiesta per una misura alternativa alla detenzione in carcere che è stata concessa. Subito dopo il fermo il giovane incensurato era stato trasferito nel carcere di Ragusa. Una parte della droga era nascosta nella tasca del suo giubbotto e il resto invece è stato sequestrato all'interno dell'abitazione. Un nuovo cantiere in via Bresmes. Il centro storico completamente bloccato con l'avvio dei lavori per la rete idrica sulla via Giacomo Navarra-Bresmes e con la via Navarra ancora transennata due importanti arterie del centro storico cittadino sono rimaste chiuse con tutti i disagi del caso. Protestano i commercianti della zona ma l'assessore ai lavori pubblici Liardi rassicura ci scusiamo per le difficoltà ma contiamo di liberare le strade in tempi brevi. Sentiamo. Il centro storico questa mattina si è svegliato blindato dai cantieri. Dopo il blocco di via Navarra che va avanti da alcuni mesi adesso arriva anche quello di via Bresmes dove stamattina gli operai di Caltacqua hanno transennato l'intera sede stradale per dare il via ai lavori di ripristino e sostituzione di un tratto della rete idrica. I lavori nel cantiere di via Navarra da quando sono riemerse le basole originari hanno inevitabilmente subito dei rallentamenti in attesa delle necessarie interlocuzioni con la sovrintendenza e beni culturali di Caltanissetta. I lavori che rientrano come quelli di via Nesceme e di via Mediterraneo tra quelli finanziati dal patto per il sud con un costo di circa 800.000 euro adesso sono ripresi ma la concomitanza con il nuovo cantiere di Caltacqua ha fatto infuriare i residenti soprattutto chi ha un'attività commerciale nella zona. I due cantieri infatti l'uno a pochissima distanza dall'altro confinano con numerose attività commerciali all'interno dell'area interessata impedendo così a molti esercenti di poter lavorare. Noi capiamo che il lavoro si deve fare ed è giusto che si fa però prima mi chiudi un cantiere e poi inizia un altro cantiere così anche il sindaco si potrebbe fare vedere questa situazione e invece così ci ha chiuso e non lavoriamo più cioè già che non si sta lavorando non lo so fate arrivare i contributi dallo Stato fate arrivare date voi i contributi e noi chiudiamo noi chiediamo urgenza di intervenire qualcuno se vuole intervenire il vice sindaco se vuole intervenire qualche ingegnere perché non si può bloccare un paese e noi siamo qua limitati cioè non abbiamo pure la forza di andare avanti. Una situazione che aggrava già le difficili condizioni dei commercianti a causa delle restrizioni legate all'emergenza pandemica Io con questo cantiere aperto stamattina i 30 cornetti che prendo ogni mattina ora me ne rimangono 20 cioè non si può lavorare così non si può lavorare così io chiedo aiuto all'amministrazione comunale anche perché a chi dobbiamo chiedere aiuto L'assessore ai lavori pubblici Ivaliardi intanto prova a rassicurare i commercianti secondo l'esponente dell'Aggiunta Greco il cantiere di Caltacqua in via Bresmes dovrebbe ripristinare tutto entro 20 giorni e anche in via Navarra i tempi di consegna dovrebbero essere accelerati nel frattempo dice l'assessore il comune ha provveduto alla sospensione della ZTL sul corso per favorire la circolazione veicolare in attesa della chiusura dei cantieri Il dibattito su recovery plan e sull'assenza di investimenti per il territorio arriva in aula virtualmente viste le restrizioni anti-covid la richiesta di consiglio comunale monotematico è stata formalizzata da un gruppo di consiglieri civici ovvero gli esponenti di una buona idea di Altaragela e il presidente della commissione bilancio Valeria Caci la convocazione fissata per il 2 febbraio è stata inoltrata al ministro per il sud Giuseppe Provenzano l'assenza di indicazioni per investimenti sul territorio ha subito indotto i civici compresi quelli vicino al sindaco Lucio Greco a chiedere spiegazione alle forze politiche di governo PD e Movimento 5 Stelle la convocazione è stata inoltrata alla deputazione regionale ai parlamentari nazionali del territorio PD e Movimento 5 Stelle a livello locale hanno respinto le critiche mosse da una parte della maggioranza spiegando che il recovery plan non è destinato a definire singoli progetti per i territori il segretario provinciale del PD Peppe Di Cristina ha replicato sostenendo che andrebbero chieste spiegazioni alla regione per i tagli e i fondi destinati alla città una linea analoga a quella dei grillini locali la convocazione della seduta monotematica arriva all'indomani del vertice di maggioranza organizzato d'urgenza dal sindaco Lucio Greco centristi pronti ad annunciare un nuovo movimento c'è il gruppo locale dell'UDC dietro al nuovo movimento politico che dovrebbe essere annunciato in settimana non ci sarà nessun divorzio dell'UDC ma si tratta del tentativo di ampliare la platea locale dei moderati mettendo insieme esponenti di lungo corso in mondo dell'associazionismo una prima mossa anche nell'ottica delle prossime regionali nessun addio all'UDC ma anzi il tentativo di tracciare un'ulteriore pista politica di centro mettendo insieme chi ha avuto ruoli anche importanti a livello locale ed esponenti di associazioni e movimenti che si rivedano nell'area moderata pare esserci questo dietro all'iniziativa che sta maturando in città avviata dagli esponenti UDC Salvatore Incardona, Silvio Scichirone e Danilo Giordano ci sono il consigliere comunale l'assessore della giunta greco e il coordinatore provinciale del partito dietro ad un nuovo movimento che potrebbe già essere presentato in settimana non ci sarà però nessun addio all'UDC ma anzi i riferimenti politici rimarranno a cominciare da quelli in giunta e alla regione dove i centristi locali hanno ormai un rapporto di fiducia con gli assessori Mimmo Turano e Alberto Piero Bon chiaramente il nuovo movimento del quale non si conosce ancora la denominazione è stato strutturato anche nell'ottica delle regionali i tre centristi pare abbiano già ricevuto il benestare non solo del partito regionale ma anche di riferimenti provinciali come l'ex deputato a Lars Rudi Mayra che ancora oggi è l'anima storica del gruppo moderato sul territorio sul piano politico non ci saranno prese di distanza dall'approccio del partito popolare europeo probabilmente in settimana emergeranno i primi nomi di chi ha già dato la propria adesione ad un'iniziativa che parte dalla città e mirerebbe ad estendersi in tutta l'isola in attesa di capire quali alleanze verranno strutturate da alcuni mesi si discute di una possibile federazione di centro che dovrebbe avere in Sicilia uno dei punti portanti per il futuro più immediato gli esponenti locali dell'Udc hanno deciso di fare la prima mossa L'istituto Albani-Roccello omaggia la memoria dei magistrati uccisi dalla mafia sarà intitolata infatti a Giovanni Falcone e Paolo Borsellino la richiesta ufficiale indirizzata anche alla prefettura di Caltanissette è partita dalla direzione del primo istituto comprensivo e adesso deliberata anche dalla giunta comunale nel provvedimento tra le altre cose si legge che la scuola presente in uno dei quartieri popolari della città pone particolare attenzione alla cittadinanza attiva e consapevole considerando la legalità il valore portante dalla prefettura di Caltanissette e dalle autorità scolastiche del territorio è inoltre arrivato il sì all'intitolazione a Don Bosco dell'intero primo istituto comprensivo che ha sede centrale a ridosso dell'oratorio salesiano la scuola primaria dell'infanzia di via Fuentes è stata invece intitolata a San Sebastiano trovandosi a ridosso dell'omonima parrocchia rimarrà invariata invece la denominazione del plesso dell'infanzia di via Siragusa la prefettura ha ritenuto di non approvare l'intitolazione a Maria Ausiliatrice considerando importante il ricordo del militare gelese Giulio Siragusa caduto nella seconda guerra mondiale è insignito della medaglia d'oro abusivismo edilizio gli uffici tecnici del municipio continuano ad emettere provvedimenti che toccano centinaia di immobili abusivi ancora sotto verifica gli accertamenti vengono condotti agli agenti della municipale negli ultimi giorni sono arrivate nuove ordinanze di demolizione chi non adempie va incontro a ingiunzioni di pagamento fino a 20.000 euro l'elevata percentuale di immobili abusivi sul territorio continua a produrre decine di provvedimenti firmati dai tecnici del comune dagli uffici dell'urbanistica solo negli ultimi giorni sono state emesse cinque ordinanze di demolizione ma anche sette ingiunzioni di pagamento fino a 20.000 euro gli accertamenti risalgono agli ultimi mesi dello scorso anno condotti dagli agenti della municipale è stato disposto l'ordine di demolizione per diversi immobili da capo soprano fino a manfre i provvedimenti di demolizione riguardano anche immobili che non hanno ottenuto la sanatoria edilizia dopo essere stati realizzati senza autorizzazioni gli accertamenti hanno toccato praticamente tutte le zone della città inducendo i tecnici del servizio ispettorato del municipio a firmare anche ingiunzioni di pagamento per quei proprietari che ad oggi non hanno ancora provveduto a dare seguito alla demolizione degli immobili risultati abusivi e senza autorizzazioni si tratta in prevalenza di immobili realizzati senza alcuna concessione ma anche di ampliamenti di strutture già edificate gli accertamenti si sono estesi anche alle zone balneari della città è tutto il nostro telegiornale termina qui per gli altri approfondimenti vi rimandiamo al quotidiano di Gela.it grazie per averci seguito Grazie a tutti